Allora ciao ragazzi, come di solito anche oggi, stasera vi voglio parlare di quei 100 milioni di pound perché magari se uno si chiede ma perché sempre ci stai parlando di quei 100 milioni di pound perché se uno parla delle cose allora prima o poi succederà quindi io vi sto parlando di questi 100 milioni di pound perché dopo un certo tempo se tu ancora ti stai pensando per un certo tempo, per esempio un mese allora dopo un mese avrai questi 100 milioni di pound e mai non ci deve pensare che non ce li avrai